Al Horror Film Festival di Torino non ci sono solamente film. Da tu accorgisci anni, il festival offre cultura e intrattenimento a 360 gradi. Tutto a lo finanziato. Una grande passione che ha bisogno nel tuo costo stegno, affreddati. Ultimi giorni di recolta andi su indigoba.com, dono un piccolo contributo per un grande evento. Grazie a tutti.